buongiorno oggi con malo il polizotto scrittore parliamo di una clamorosa evasione dai risvolti torbi i protagonisti due detenuti speciali due sbirri di strada che non hanno paura di sporcarsi le mani nella feccia criminale e il passato che ritorna e presenta il corpo questo è il tempo degli spiriti l'ultimo romanzo di maurizio loretti per vori l'autore con giorgio rodetti se il video vi piace vi invito a lasciare un like e nel caso non avreste ancora fatto iscrivetevi al nostro canale youtube attivando la campanellina in alto a destra per non perdervi nessuno dei nostri appuntamenti settimanali buona visione e buon riscatto la cultura a tutto tutto stay calm l'appuntamento di oggi è un fuori programma in collaborazione con chiara boschini che ringrazio ormai lei ci segue da addirittura da quest'estate e a settembre ottobre novembre abbiamo incontrato tantissimi autori della casa editrice di cui lei è responsabile bolis editore di bergamo e oggi sono in compagnia di un altro autore molto particolare diamo il benvenuto a maurizio lorenzi ciao maurizio ciao giorgio grazie del particolare un saluto a tutti i tuoi ascoltatori sono tantissimi la particolare lo spiego subito l'utilizzo di determinate parole può rendere la questione equivoca ma particolare perché intanto presentiamo il tuo ultimo nato perché non è il primo libro che scrivi il tempo degli sbirri maurizio lorenzi bolis editore e poi torneremo sul libro particolare perché perché ovviamente sai tu meglio di me quante persone io abbia incontrato in questi cinque mesi e quindi quando poi devo prepararmi quei cinque minuti prima per trovare un po di fonti che espirino domande iniziali sui personaggi la cosa che di te mi ha incuriosito molto la presenza all'interno di wikipedia di una pagina che ti descrive tra l'altro tu sei un poliziotto ma sei anche uno scrittore collabori con un giornale lì della zona di bergamo ovviamente sei di bergamo vivi a bergamo collabori anche con un una radio quindi sei un personaggio abbastanza poliedrico allora raccontaci un po intanto anche come non è il tuo primo libro ne scritti altri tra l'altro è una serie di libri su sbirri da strada da su marciapiede di esperienze vere poi ovviamente mischiate un po col romanzo la la finzione con quello che ovviamente serve anche per una lettura più diciamo leggera ecco mettiamola così raccontaci un po di te perché io sono molto curioso intanto grazie per lo spazio che mi dedichi ma io diciamo che nella vita reale sono un poliziotto e quindi quella la mia professione insomma il lavoro che amo e che svolgo regolarmente nella mia vita parallela sono un autore o comunque uno che gioca a fare lo scrittore perché insomma gli scrittori bravi sono altri però mi diverto a scrivere a raccontare storie sono sempre in cerca di storie interessanti per certi versi incredibili che meritano di essere raccontate e diciamo che la scrittura è un po una sorta di jogging mentale che mi aiuta a vivere meglio come dicevi tu ho la passione anche per la collaborazione giornalistica era uno dei miei piccoli grandi sogni quando ero piccolo volevo fare il giornalista ho sempre sognato di fare questa carriera e insomma di girare per le strade trovare notizie poi mettere nero su bianco quello che accadeva e tra virgolette il mio piccolo sono riuscito a realizzare anche questo sogno e mi piace anche il radio adesso ho una piccola rubricchia su una radio locale qui pn radio in provincia di bergamo in cui intervisto pensa te proprio gli scrittori un po come fai tu per cui cerco di scoprire di scovare il sacro fuoco che genera la voglia di scrivere e le motivazioni che hanno gli autori e gli faccio anche una serie di domande un po strane un po folli gioco un po anche per vocali per capire un po cosa ne pensano di di tantissimi argomenti per cui cerco di non annoiarmi e forse un po come fai tu cerco di curiosare nelle menti altrui per cercare di capire cosa frulla nella mia questo è molto bello un gioco degli specchi che a me piace molto l'idea del programma è proprio questo non che io leggo appunto 3500 pubblicazioni che poi devo presentare perché ho sempre detto non le leggo e quindi però mi piace più l'aspetto di conoscere l'autore di vedere cosa sta dietro il libro e poi attraverso ovviamente colui che l'ha scritto attraversare un po le pagine delle volume per rendere appunto interessante l'acquisto per tutti coloro che poi ci ascolteranno ci seguono in diretta tra l'altro il tuo esordio è avvenuto nel 2005 con racconti sulla strada e niente po po di meno che un certo vittorio feltri è il più sconosciuto si fa per dire che ha fatto la prefazione ecco in questo in questo caso la mia curiosità sta intanto come hai conosciuto vittorio che tipo di rapporto c'è e come è nata appunto l'idea di fare di scrivere la prefazione ma l'aneduto che mi collega vittorio è divertentissimo io per una certa parte della mia carriera lavorativa ero nel reparto scorte scorte personalità e mi occupavo di appunto accompagnare scortare persone che erano rischio no in qualche modo da una incolumità e per un certo periodo ho scortato proprio vittorio feltri che è una persona molto alla mano molto come dire schietta un po come lo vediamo no in realtà anche in televisione e stando in macchina con lui alcune ore un giorno gli ho detto che coltivavo il sogno di scrivere un libro dei racconti insomma mi dilettavo in questa nuova passione che era puntata improvvisamente nella mia vita un giorno mi ricordo che lui era seduto dietro nella macchina gli ho passato un foglio di appunti gli ho detto guardi se lei ha un minuto di tempo mi legga o mi dica cosa pensa di queste mie come dire riflessioni no che ho messo nello su bianco che poi era una serie di aneddoti e di racconti come dicevi tu di episodi realmente accaduti a me o altri miei colleghi che erano particolarmente rocamboleschi avventurosi insomma il nostro lavoro lavoro dalla polizia è un lavoro particolare che ci mette a confronto con il male ma a volte ci fa anche sorridere perché ne capitano veramente di tutti i colori e mi ricordo che all'inizio insomma mi ha guardato per dire ma dovevo andare non farmi perdere neanche tempo poi un giorno improvvisamente quando mi ha dato una risposta così perché dopo vi ricordo via mail mi ha risposto che erano divertenti che gli erano piaciuti e loro ho chiesto guardi se per lei non è un problema a voglia se mi può fare la prefazione al libro sarebbe un grande onore per me anche perché ha superato il suo esame che veramente era praticamente impossibile e mi ha fatto questa questa bellissima prefazione in cui in realtà sottolinea anche la difficoltà del nostro lavoro insomma lo stress e la tensione che abbiamo e questi racconti quel libro che era racconti sulla strada perché poi ha avuto un sequel con racconti di strada era una sorta di resoconto della vita quotidiana di un poliziotto che si alza la mattina e mette una divisa va incontro a un destino che non conosce spesso è un destino normale ordinario che lo mette a confronto appunto con episodi esilaranti come raccontato in quei libri oppure con anche situazioni molto più drammatiche e la scrittura anche per quanto mi riguarda aiuta anche a sdramatizzare un po' a volte lo stress no a volte certi impatti certi eventi il confronto con la morte o con la paura che spesso nella mia professione inevitabile no doversi confrontare con questi nemici invisibili che improvvisamente prendono forma ecco proprio questa tua professione nel 2013 come si legge su wikipedia interprete intraprendi il filone dei romanzi polizioschi tratti da storie vere pubblicando sbirro morto eroe oggi 2021 ti presenti al pubblico editoriale bibliografico con il tempo degli sbirri ecco quanta persona tua quanta esperienza personale vissuta proprio anche per il lavoro che fai poi ritroviamo nei tuoi libri perché so che alcuni fatti eh dei tuoi libri non solo di questo nello specifico poi di questo adesso andremo a leggere brevemente la sinossi per far entrare un po' tutti coloro che ci stanno eh seguendo un po' nelle pagine eh di del tuo eh volume c'è nel senso vera direi che inevitabilmente c'è ogni autore porta una piccola o grande parte di sé nelle proprie opere non si può nascondere dovrebbe essere una delle regole no fondamentali non mettere mai nulla di personale in quello che si scrive in realtà io sfrutto un po' il mio come dire la mia conoscenza tecnica il mio tecnicismo legato al mio lavoro per cercare di raccontare fatti inerenti appunto a quelle che sono indagini di polizia o fatti di cronaca che comportano l'intervento di investigatori o comunque sia a fine al mio mondo li racconto per cercare di portare il lettore in maniera verosimile in queste storie in queste narrazioni lo dicevi prima tu nei miei precedenti libri ho sempre raccontato fatti realmente accaduti partendo dalla strage eh del casello di dami dove la banda valanzasca ha assassinato due poliziotti eh nel 1977 cercando di come dire eh rivalutare le figure storiche di far capire ai lettori chi sono gli eroi veri quelli positivi e distinguerli da quelli che sono invece eroi mediatici come possono essere taluni criminali dipinti dalla stampa in maniera anche strumentale no per creare una sorta di personaggio ho raccontato anche la strage di vieda meglio di quella di capaci proprio per cercare di scovare all'interno di queste storie qualche elemento che non era stato ancora raccontato al grande pubblico diciamo che i romanzi siano un merito a volte quello di portare in evidenza eh delle verità alternative a quelle giudiziarie cioè dare ai lettori degli strumenti per farsi un'idea su quello che può essere accaduto l'Italia tu lo sai meglio di me Giorgio è pieno di misteri no di casi insoluti che purtroppo non trovano una compiuta eh verità ci sono delle parziali verità parziali parziali emissioni processi tuttora aperti se pensiamo alla strage di via da meglio il borsellino quinques cioè la quinta fase del processo borsellino è ancora aperta sono passati ormai sappiamo tutti dal 1992 moltissimi anni per cui ecco io ho sempre voglia di cercare di scavare nelle storie per portare l'attenzione del lettore magari qualche piccolo elemento di novità cercando però di essere coerente cioè di raccontare come si svolge un'indagine nella maniera più eh fedele possibile un po' perché sorrido quando vedo le fiction in televisione o quando vedo certe rappresentazioni cinematografiche mi viene un pochino come dire voglia di ehm eh cambiare canale ma è chiaro che poi la finzione è una cosa e invece diciamo la la verosimiglianza è un'altra ma per ogni chiaramente ogni ogni prodotto ogni format al suo pubblico no? Allora da quello che dici da quello che ho letto Maurizio mi viene da pensare che attraverso la lettura dei tuoi libri ci sia il punto di vista di osservazione di un presente di un partecipe di uno che comunque se non ha vissuto proprio quella storia ne ha vissuta una molto similare infatti nella sinossi del libro il tempo degli Sbiri edito per Bolis il libro che appunto andiamo a presentare oggi le storie non finiscono mai quello che accade nella vita di due polizziotti eh di strada Sbiri che non hanno mai avuto paura di sporcarsi le mani in prima persona e così quando viene arrestato il direttore di un carcere di una eh città di cui non non nella sinossi non viene detto qual è la città nel libro viene detta la città o la lasci? No no si intuisce che comunque la città in cui avviene nasce la storia comunque Bergamo male. Nasce la storia la città dove poi in realtà è avvenuto veramente l'evasione dei due carcerati sotto massima eh sorveglianza che invece sono riusciti ad evadere e questa è la parte eh reale della storia accompagnaci un po' come una sorta di Dante all'interno della tua commedia della tua che poi commedia non è del tuo noir romanzo. Sì in realtà appunto si tratta di un romanzo poliziesco che si ispira eh liberamente a un fatto accaduto all'inizio degli anni duemila quando pensate come le dicevi prima prima tu due detenuti sottoposti a regime di elevata sorveglianza significa che sono due persone che per il loro pedigree criminale per i loro progressi riati sono attenzionati no? Vivono in una una sorta di bolla dove eh non ordinaria no? Non come tutti gli altri detenuti quindi c'è particolare attenzione verso questi due super detenuti ma incredibilmente ed è una storia che mi è da sempre affascinato in una notte di ottobre questi due detenuti riescono a scappare è una cosa eh clamorosa no? Che come può intuire destabilizza un po' il sistema penitenziario ma anche la tranquillità di una città di provincia che si ritrova a fare conti con una evasione clamorosa che avviene fuori no? Dalla dalla propria porta e questi due detenuti chiaramente scatenano una sorta di caccia all'uomo all'italiana che si sviluppa eh su diversi giorni addirittura sconfinerà uscirà da quelli che sono i confini nazionali ehm e ci saranno due investigatori che si metteranno sulle tracce di questi due vasi da qui il titolo il tempo degli sbirri perché questi due investigatori sono due poliziotti chiamiamoli ordinari normali no? Che hanno una vita come l'abbiamo noi non sono simili alle stereotipi che vediamo come dicevamo prima magari in tv o in altre narrazioni in cui insomma l'ispettore di turno è il classico uomo combattuto sciupa femmine piuttosto eh in crisi con se stesso che alla sera si abbandona la bottiglia di alcol sul divano non siamo su questa linea siamo su due investigatori un ispettore e un sovrintendente l'ispettore Carena e sovrintendente Testoni che con i mezzi normali che hanno a disposizione si mettono sulle tracce degli evasi sarà una caccia all'uomo lunghissima ogni piccolo indizio comporrà un puzzle che porterà alla cattura di questi due criminali non vi dico di più né in che termini né quando verrà questa questa cattura ma chiaramente queste due strane coppie i fuggiaschi e gli investigatori sono di fatti i protagonisti dell'opera che si alternano sul podio diciamo di chi ha più visibilità proprio in maniera alternata e quindi c'è questa sorta di duello a distanza che ho trovato assolutamente affascinante e ogni personalità di questi quattro protagonisti al suo modo ha un suo a un suo fascino il fascino del male ovviamente incarnato da chi fugge e il fascino del bene o comunque della vita che è più simile a quella che viviamo noi rappresentata dai due investigatori insomma questo è un po' il quinto sì scusa ho concluso no tra l'altro da neofita quale sono su tutto l'argomento che riguarda ovviamente la tua professione attuale e quella ovviamente del fatto realmente accaduto delle dell'evasione detta come le raccontate a te ovviamente da pensante mi verrebbe subito da dire qui gatto ci cova ma come sono super sorvegliati che riescono ad evadere ma anche fossero nella casa di carta peste di anse legrete con la le grate fatte di cioccolato che se ne mangia sicuramente un aiuto dall'interno lo avranno avuto per scappare probabilmente per questo che ovviamente arrestano anche il direttore ascolta intanto sempre nella famosa pagina dove tu hai ricevuto anche dei premi come scrittore e poi usi anche uno pseudonimo che sono le iniziali del tuo nome del tuo cognome malo sì ma questa cosa di malo è nata un po per gioco un po come la pagina di wikipedia perché io onestamente mi sono ritrovato un giorno con questa pagina aperta e ero ovviamente stupito anche perché ci sono sole ben più meritevoli di me che insomma meritano questo questo profilo tanto è vero ti confesso che anche molti amici scrittori mi prendono in giro a volte mi contattano e mi dicono ma come diavolo hai fatto avere una pagina su wikipedia quando io non riesco ad averlo oppure a me non la fanno oppure dovrei averla anch'io e scherziamo sempre no su questa cosa ma purtroppo tra l'altro ho scoperto poi approfondendo il tema che ci sono dei parametri molto severi per poter essere ammessi su wikipedia in base al tipo di professione che viene decantata nel profilo negli autori ci sono tutta una serie di parametri legati al tipo di pubblicazione tipo a un numero minimo di recensioni su quotidiani nazionali ci sono tutta una serie di parametri che se non vengono rispettati non ci consentono di essere consente alla persona di essere inserita per cui è una cosa che mi fa sorridere e questo acronimo è nato un po' per gioco e un po' per caratterizzare insomma la mia persona perché poi fondamentalmente siamo in tanti a scrivere quindi è un acronimo che ho usato all'inizio per una rubrica che avevo su un mensile con cui collaboravo in cui avevo una rubrica che si chiamava chiacchiere distintivo e parlavo un po' insomma di vari temi ed era un po' il poliziotto che scriveva una sorta di figura che il direttore aveva trovato su questa rubrica che tra l'altro è araberara non so se la conosci beh una una rivista che viene pubblicata in val seriana nella parte nord della provincia che tra l'altro ha un discreto seguito è stata anche avuto grandi richiami nazionali e durante le indagini per il caso di iara perché c'era stata una connessione legata a un testimone che era spuntato su questa rivista c'era c'era anche una canzone un tormentone estivo malo malo che ti richiedeva il tuo acronimo nello pseudonimo senti eh Maurizio una curiosità eh tu sei molto presa il lavoro che ti occupa eh tra l'altro molto tempo durante la giornata ma soprattutto un lavoro che ha molti orari imprevisti tant'è che noi avremmo dovuto fare l'intervista un paio di giorni fa poi ovviamente tu sei stato preso abbiamo avuto l'occasione di poterla eh spostare domanda qual è il tempo che invece dedichi alla scrittura sei uno degli autori che preferisce prendere degli spunti insegnarsi magari qualcosa che gli è capitato così o invece proprio dedichi delle giornate intere durante le pause estive o durante il weekend quando hai una pausa com'è il tuo rapporto con la scrittura ma è bellissima domanda perché in realtà io ero uno che anni fa viaggiava si spostava con un taccuino faceva come quelli nei film un po figo e faceva finta di prendere appunti al bar guardava l'orizzonte ordinava un bicchiere di super alcolico di diversa marca poi nel tempo ho capito che questa roba non funziona e soprattutto gli impegni tra chiaramente la famiglia tra il lavoro eccetera comportano una sorta di organizzazione ferrea no io ho tantissimi amici autori che mi dicono che si alzano la mattina alle 5 scrivono fino alle 7 poi vanno a lavorare no li ho sempre presi per pazzi perché poi fino alle 9 del mattino non sono in grado di intendere volere in realtà negli ultimi tempi ho trovato un nuovo ritmo e mi rendo conto che la mattina nonostante non sia così romantico così affascinante la mente lavori meglio e quindi qualche volta quando posso mi ritaglio uno spazio lungo la mattinata altrimenti come tutti si va a tarda serata e si cerca di rifinire un progetto in realtà è anche vero che se tu hai una sorta di empatia con quello che stai scrivendo con la storia che vuoi mettere nero su bianco ogni momento è buono e davvero anche la mezz'ora rubata all'attesa prima di fare una commissione può essere preziosa io sempre un portatile con me quindi quando sono in giro anche se per servizio per lavoro sono lontano da casa cerco di sfruttare anche pochi minuti per scrivere a volte ho delle attese in aeroporto abbastanza lunghe quindi lì è un momento importante prezioso e poi quando non li so scrivere magari leggo perché dico sempre che sia fondamentale la lettura per chiunque scrittori compresi scherziamo sempre radio nella nostra trasmissione leggere aiuta a capire e scrivere aiuta a capirsi ma dobbiamo sempre leggere per poi passare alla scrittura per cui a volte scrivo dopo aver letto magari 4 5 pagine di un libro che mi attendeva sul sul tavolo tra l'altro questa frase che tu hai citato prima mi era piaciuta molto la voletta me l'ero segnata da qualche parte per ripetere ma giustamente l'hai detta a te e quindi va va benissimo l'altra tua e quindi va benissimo ascolta l'altra domanda che invece mi era venuta in mente appunto leggendo il famoso inseguimento all'italiana perché io quando dico all'italiana intendo un purpurino di cose che vanno sempre dal lato opposto l'altro giorno un mio amico per intenderci mi ha mandato la famosa foto su instagram o su whatsapp dove c'è una un crocevia di spine un'attaccata all'altra e poi su questa montagna di spine doppie spine treppie spine hanno messo una candela hanno acceso la luce questo è un po' l'atteggiamento all'italia è l'inseguimento che vediamo nei film nei telefilm quelli soprattutto su netflix sky e quant'altro come funziona l'inseguimento all'italiana l'inseguimento all'italiana è l'antitesi dell'inseguimento all'americana ma noi conosciamo tutto ciò che avviene negli seguimenti nelle indagini nelle approfondimenti da quello che ci viene proposto dalle televisioni per cui nella serie tv csi i poliziotti americani da un capello trovano il colpevole in 6 7 massimo 8 ore cosa che non è proprio esattamente affine alla realtà nel mio libro il segmento l'italiana è quello in cui un poliziotto normale eh sottolineo questo questo termine che può sembrare poco elegante che sicuramente non è slanciato sicuramente non è eh elegante magari è una persona eh abbastanza grande la porta a canto magari è appostato sul tetto di un palazzo con un binocolo con cui fa una fatica maledetta a vedere a 50 metri magari ha mangiato pesante la sera prima sta pensando ai rimbrotti che gli ha fatto la moglie e nel frattempo sta cercando di capire la persona che stanno seguendo dove sta andando quali saranno le sue prossime mosse oppure il poliziotto normale lo racconto anche quello che eh si ritrova un collega all'ultimo momento di pattuglia che non aveva il programma di avere e questo non è nemmeno in grado di guidare come dovrebbe essere come dire indicato in certi casi e se gli dici di andare a destra questo va a sinistra e quindi salta anche quello che è il pedinamento no quindi ci sono situazioni che sembrano ridicole ma vi è sicuro che non sono così incredibili ma soprattutto cerco di raccontare anche gli strumenti i mezzi no voglio dire non ci sono tutte come dire il portafoglio di mezzi ma tecnologici piuttosto che anche finanziati dietro no alle spalle che hanno in certi ambiti per cui se io con una fiat punto devo cercare di seguire una mercedes in autostrada potrò vederla l'ingresso del casello ma proprio pochi minuti e difficilmente paga il casello in contanti ma col telepass invece l'altra curiosità beh questo è molto interessante ed è molto bello e quindi è un motivo in più per acquistare il volume ce la fanno la fine ce la fanno a prendere nonostante nonostante tutto quindi voglio dire bravi loro guardano italiani poi accusarci di qualsiasi cosa saremo casinisti noi facciamo di tutto di più ci mettiamo magari del tempo per arrivare percorriamo 18 mila ma alla fine arriviamo dove dobbiamo andare e facciamo che dobbiamo fare questo non possono dire nulla nessuno la storia guarda cosa hanno fatto i romani allora invece l'altra mia curiosità è le fonti nel senso che ovviamente la fonte principale è a livello lavorativo può essere la soffiata il collega che ti dice che è successo un fatto piuttosto che un altro poi il giornale il telegiornale ma una volta che una fonte ti interessa ad esempio rimanendo sulla storia anche del libro che stiamo presentando il tempo degli sbirri l'evasione di questi due super carcerati sotto stretta sorveglianza dopodiché altre fonti che tu vai per indagare per creare la storia come come funziona raccontaci un po vai negli archivi vai nei tribunali non vai da nessuna parte leggi altre informazioni come avviene poi la vera conoscenza dei fatti perché si sa perfettamente il covid è una dimostrazione da 2015 abbiamo milioni quotidiane di fonti e ognuna la più disparata una ti dice che una cosa va bene l'altra ti dice che non va bene l'altra ti dice ancora che non va bene e non c'è un libro scritto invece su fatti accaduti e comunque già processati e già assorbiti nella storia del tempo che è già passato si creano invece pubblicazioni documenti d'archività insomma una volta che tu trovi una storia che ti interessa come avviene poi l'informazione su quell'argomento ma è una bellissima domanda perché in realtà ti devo confessare che la parte preparatoria di un libro è la più divertente la più interessante la più affascinante la più coinvolgente proprio perché ti obbliga a rapportarti in maniera coerente con quello che scopri è con la fonte la fonte va primariamente protetta e soprattutto va verificata per verificare la fonte bisogna agire sul lato nel senso che si ascolta la fonte si poi controlla quello che ha detto e poi si va anche a verificare qualora necessario nei luoghi in cui è avvenuto un dato fatto se questi luoghi siano veramente no attinenti al racconto che uno ha potuto ricevere per cui c'è un lavoro di studio chiaramente delle carte nel caso in cui si riesca ad ottenere le carte giudiziarie tramite regolare acquisizione si consultano quelle tra l'altro devo dire che se insomma chiunque di voi frequenti il web ormai in rete si trova praticamente non dico tutto ma tantissimo si trovano addirittura documenti che non dovrebbero essere là ma si trovano veramente carte giudiziarie verbali drogatorio perizie tantissima tantissima roba che può essere utilizzata per approfondire certi temi e poi le fonti sono un'altra chiave di volta e chiaramente poi la cosa interessante è mescolare non a creare questa sorta di mix miscelare il tutto e creare questa sorta di romanzo che chiaramente non è un saggio non ha pretese di svelare verità ma magari può fornire una verità romanzata un'interpretazione alternativa quella che è stata poi stabilita in tribunale no è bello che così almeno coloro che ci seguono ci seguiranno capiscono anche poi l'interesse e il piacere che c'è dietro e poi mosso comunque tra virgolette già da una persona preparata un addetto tra virgolette ai lavori nel senso che tu comunque anche per professione devi sempre indagare devi sempre corre corre lare le varie fonti perché non c'è mai una versione eh di una storia lì mi viene sempre in mente un saggio greco che avevo letto o dolce greco che avevo letto tempo fa dove poi c'era questo giudice che aveva tre davanti li esponevano in modo diverso la stessa storia gli dava ragione ovviamente a tutti e tre è fantastica e questi qua si guardavano diciamo come facciamo ad avere ragione tutti e tre e dal vostro punto di vista tutti e tre avete ragione eh maurizio io ti ringrazio c'è qualcosa che vuoi aggiungere no sono io che ringrazio te e voglio sottolineare che in realtà per gli scrittori molte volte non è così difficile trovare storie interessanti perché la realtà supera praticamente sempre la fantasia e mi sono imbattuto storie incredibili che potevano essere non verosimili ma veramente accade di tutto e in questo libro in realtà è una sorta di esempio che veramente può accadere di tutto in un ambiente come quello delle carceri molto complicato io tra l'altro spezzo una lancia anche a favore degli amici della polizia penitenziaria perché ne conosco tantissimi e voglio riconoscere pubblicamente che loro lavoro complicatissimo difficile perché mantenere un equilibrio legato alla convivenza in una stessa struttura tra chi fa il loro lavoro e chi invece ha scelto il male come professione o ne è stato solo sfiorato è veramente complicato per cui anche questo fatto purtroppo può accadere ma se metti in evidenza alcune lacune che posso aver raccontato nel libro metti in evidenza anche altre eccellenze per cui magari vediamo cosa penserà il lettore d'obbligo d'obbligo altre due piccole domandine con una risposta breve ma vedita intanto allora visto che tu ripeto se veramente su sul pezzo nel vero senso della parola come il covido ha trovato maurizio lorenzi ormai che convive con ormai da qualcosa come 15 mesi più o meno e quindi la tua l'arrivo e la permanenza di questa e poi soprattutto in relazione visto che comunque è una certa esperienza vedo anche amici che ci lavorano il covido se è possibile brevemente anche nelle carceri una tua opinione come come sta venendo affrontata la situazione ma il covido giorgio ha stravolto le nostre vite se da un lato ha privato noi di una libertà tra virgolette che consideravamo normale quotidiana dall'alto dall'altro si è avuto un piccolo merito nella sofferenza è stato quello di farci riscoprire le cose semplici no noi a bergamo abbiamo avuto un periodo complicatissimo soffertissimo abbiamo pagato un dazio altissimo anche in termini di morti quindi da noi veramente è stata qualcosa che ha cambiato la società spazzato via una classe intera di anziani di persone che in realtà non esiste più no una fascia di età soprattutto quella avanzata è stata spazzata completamente via quindi la memoria storica si 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 perderà perché non ci saranno più loro a raccontarci bene chi eravamo e cosa potremmo mai essere e è stato un periodo importante in cui la riflessione è stata la nostra compagna di vita io ho approfittato per leggere più che per fare altre cose non per scrivere perché non volevo scrivere di quel momento volevo uscire volevo allontanarmi da quel momento vivendo altre storie e per cui ci ha lasciato che piccole cose abbiamo scoperto la passeggiata fuori casa prendere la bicicletta salire verso la collina essere più contenti obbligarci essere più contenti come forse dovremmo essere anche per piccole cose che adesso possiamo fare che non facevamo più apprezzare la nostra quotidianità la quotidianità nelle carceri è stato un problema molto più grande perché se tu devi pensare che i detenuti sono a stretto contatto uno con l'altro chiaramente non è possibile poi non separarli uno per uno quando ci sono dei dei contagi durante il covid avviene ancora adesso esistono delle 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 parti di alcune carceri che sono destinate ai potenziali positivi e vengono trasferiti da un istituto all'altro per evitare ulteriori contagi ed è stato un problema abbastanza importante anche perché come tu ben sai il fatto di potersi poter come dire far fare un tampone a un detenuto è un è un diritto che lo stesso può avere ma non è un obbligo quindi se un detenuto si rifiuta di farlo mette in difficoltà anche la sanità no il corpo sanitario che gestisce un carcere con tutte le conseguenze connesse perciò che dico che veramente gestire lavorare in un carcere è veramente complicato e soprattutto perché ci deve lavorare perché poi alla fine della fea è un lavoro e quindi è molto complicato e non se ne parla mai ed è una cosa che passa infatti e non sarebbe come non si è mai parlato della chiusura dei musei della chiusura dei teatri della cultura che tanto qualcuno dice che con la cultura non si magna e quindi andiamo avanti così all'italiana come dice l'italiana il tempo degli sbirri velocissimamente qual è il commento dell'entourage più stretto amici parenti o comunque che hai già ricevuto dai lettori che ti ha più colpito ma i primi i primi commenti sono un po di stupore perché mi dicono che non pensavano chi ha letto il libro che la storia o quella storia potesse avere uno sviluppo di questo tipo erano tutti abbastanza fermi ai titoli dei giornali che erano apparsi all'epoca ma nessuno poteva immaginare chiaramente un romanzo ma un'evoluzione di questo tipo abbastanza stupiti che ci fosse come dire uno scenario di questo genere dietro e davanti a questa questa storia per cui un po una sorta di stupore ecco questa un po la sensazione che che ho che ho percepito anche perché qui si potrebbe aprire un altro incontro un altro episodio però mentre prima io ti parlavo delle fonti tu dicevi che ne confrontavi le paragonavi questo è per la stesura di un libro che può uscire dopo un anno sei mesi due anni che uno lo pensa cosa che non avviene invece per l'informazione ogni pestante la sua opinione ogni giorno escono decine di giornali poi la gente li legge non va a confrontarli con altri e diventano verità assolute quindi si entra in contrasto tra verità reali e verità non reali ma giusto è come se io ritengo modestamente se i libri in generale hanno un merito è quello di approfondire determinate tematiche cosa che le persone non fanno più la gente giorno d'oggi si limita a leggere un titolo no che passa sul fondo di uno schermo si accontenta di quella informazione pillola non approfondisce più i quotidiani chiaramente cartacee le vendite sono crollate quindi vendono solo quelli online una scusa anche lì per essere veloci se facciamo caso anche nei siti no in cui consultiamo c'è addirittura il tempo di lettura no massimo di un articolo il che ci induce a dire se ho un minuto lo leggerò se ho due minuti lo leggerò se mi servono più di tre minuti non leggo l'articolo non ci non ci impegniamo più per approfondire i concetti non ci indigniamo più poi di conseguenza perché se non approfondiamo la notizia non abbiamo una base per poter farci un'idea dobbiamo solamente muovere la testa come persone che non hanno una propria identità per cui i libri e i quotidiani per quello che possono fare con i limiti che hanno oggi sono forse l'unico modo che abbiamo per approfondire temi storie persone capire chi siamo però per fermarci un po e magari rallentare fingere insomma perché poi a volte si corre ma non sappiamo nemmeno dove stiamo andando insomma fermarci un pochino per cercare di approfondire certe storie che poi ci riguardano no qualunque tipo di storia può essere affascinata il testimone che nel subconscio delle persone anche un trafiletto letto magari dieci anni fa lascio un ricordo che poi scontrato con il tuo testo nel tuo caso specifico che comunque è legato a un fatto realmente accaduto e poi romanzato di adito a dire ma non sapevo come fosse andata a finire o quant'altro quindi è proprio è proprio così quindi maurizio complimenti buon proseguimento come sta andando so che 2021 è recente sì no è uscito da pochissimo praticamente venti giorni fa e speriamo insomma di riprendere gli incontri dal vivo insomma anche noi giorgio di poterci vedere di poter dialogare magari tastare il polso al lettore o come confrontarci con le persone sui libri in generale di qualunque tipo siano e l'augurio è quello lì di tornare un po all'incontro vero quello fisico che tra l'altro anche quello stava andando un po scemando è perché anche la l'incontro le presentazioni non sempre più problematiche la gente sempre più pigra magari libro lo compra ma attraverso i canali online ma non va la presentazione quindi sarebbe un modo per riprendere un po un filo del discorso e guardarci negli occhi e salutarci darci la mano cosa che non possiamo più fare sembra di stare in un film apocalittico ma in realtà ma io credo che il meglio debba ancora venire per cui insomma il futuro ci riserverà un sorriso su questo sono sicuro allora io ti ringrazio maurizio maurizio lorenzi il tempo degli sbirri bolis editor in vendita in tutte le librerie ovviamente sul canale web dell'e-commerce una buona giornata vi ricordi con l'ultimo appuntamento della social tv e alle ore 17 quindi rimanete sintonizzati maurizio grazie mille grazie giorgio per tutto quello che fai grazie mille grazie mille grazie a tutti